Anche la procura di Palermo in indaga sul tunisino ricercato per l'attentato di Berlino, Amri Arniss, è stato infatti detenuto per un certo periodo in alcuni penitenziari della Sicilia occidentale. Durante la detenzione sono stati numerosi gli episodi di violenza. Maxi operazione nella guardia di finanza di Ragusa che ha portato al fermo di otto persone. L'indagine ha consentito di individuare i componenti di una banda che operava nella città a capoluogo. Sequestrati 35 kg di marijuana e cocaina a 100.000 euro tra assegne e contanti. Non c'è alcuna crisi all'interno del Movimento 5 Stelle a Ragusa a garantirlo del sindaco Federico Peccitto dopo che i consiglieri di opposizione e una consigliera grillina hanno votato contro le variazioni di bilancio. Cancellere lo ha definito uno dei migliori sindaci del Movimento. Cerimonia di consegna stamani in prefettura dei diplomi delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica. Il riconoscimento è andato a 5 ragusani che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Buonasera ancora, ben trovati a MTG. Caccia all'uomo in tutta la Germania, anche nei paesi vicini. Il tunisino Anis Amir ha 24 anni, considerato l'autore dell'attacco terroristico a Berlino. Ha vissuto per 4 anni in Sicilia. Era sbarcato a Lampedusa, ancora minorenne, nel 2011. E' stato anche a Catania e a Palermo. Spentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Anis Amir, 24 anni, oggi. Il tunisino, considerato responsabile dell'attentato contro il mercato di Natale a Berlino, rivendicato dall'ISIS, ha vissuto per 4 anni in Sicilia. Su di lui dipende una taglia da 100.000 euro che verrà segnata a chiunque fornisca informazioni che portino all'arresto. Lui, il ragazzo, dalle 12 identità, raggiunto da innumerevoli decreti di espulsione, non ha mai ottemprato all'ordine, cambiando continuamente volte il nome per eludere controlli e non farsi riconoscere. Nato il 22 dicembre del 1992, nel corso degli anni Amir ha usato almeno 12 nomi e tre nazionalità diverse. Anis era sbarcato a Lampedusa nel 2011, ancora minorenne. Si era anche reso responsabile dell'incendio dal centro d'accoglienza di Contra d'Embriacola. Il rogo era stato appiccato dai migrati che da diverse settimane erano ospiti della struttura. Gli extracomunitari da giorni protestavano per chiedere il trasferimento sulla terraferma. Era stato arrestato e trasferito a Catania e poi a Palermo. Dopo aver scontato la pena di 4 anni di reclusione a Lucardone, aveva ricevuto un provvedimento di espulsione, ma la Tunisia lo aveva rifiutato. Così nel 2015 di lui si erano perse le tracce e si era spostato in Germania. I suoi documenti sono stati trovati nella cabina di guida del tir, che lunedì sera ha seminato la morte nel mercato di Natale a Berlino, provocando 12 vittime. Il documento recuperato dagli investigatori sotto il sedile del camion dovrebbe essere una sospensione temporanea dell'espulsione, uno status che prevede alcune misure restrittive, come limitazione dei movimenti e non potrà avere un lavoro. L'ufficio del procuratore federale tedesco, che online ha pubblicato le sue foto, lo descrive alto 1 metro e 78 centimetri e di peso intorno ai 75 chilogrammi, con capelli neri e occhi castani. E anche la procura di Palermo indaga sul tunisino 24enne, ricercato per l'attentato a Berlino. Amnis Anis è stato infatti detenuto per un certo periodo in alcuni penitenziari della Sicilia occidentale. Il procuratore aggiunto Leonardo Aguecci e il sostituto Jerry Ferrara hanno aperto un fascicolo di atti relativi per verificare il comportamento in carcere del 24enne. Gli accertamenti sono stati delegati alla Digos di Palermo, che ha già acquisito alcuni atti del percorso carcerario fatto dal tunisino, oggi ricercato. Durante la detenzione sono stati numerosi gli episodi di violenza, che hanno provocato richiami del direttore del carcere, l'esclusione dall'attività in comune con altri detenuti. In tutto, i documenti ne certificano 12. Parliamo ancora di cronaca, con un'operazione antidroga della Guardia di Finanza, che ha portato all'arresto di 8 persone. La lunga indagine, durata quasi un anno, ha consentito di individuare i componenti di una banda che operava nella città capoluogo, sequestrati 35 kg di marijuana, anche della cocaina e 100.000 euro tra assegni e contanti. Sentiamo il servizio di Carmela Minardo. Un mese fa era riuscito fortunosamente a sfuggire alla cattura. Inseguito nel centralissimo corsetale a Ragusa e bloccato su un'auto presa in noleggio, aveva con sé 30 kg di droga, ma riuscì a darsi alla fuga, correndo per le vie del centro, nonostante un colpo di pistola sparato in aria dai finanzieri. Questa volta per il catanese Calogero Luca, 30 anni, pluripregiudicato, considerato il capo di una fitta organizzazione di spacciatori operante a Ragusa, sono scattate le manette. Si chiude così con l'arresto di 8 persone, un'operazione frutto di un anno di indagini compiute dal nucleo tributario della Guardia di Finanza. Il 23 novembre scorso, in occasione della fuga di Luca, erano stati arrestati tre presunti affiliati, un albanese di 36 anni, Sulo Selle, un coetaneo di Acireale, Vincenzo Manciagli, e un ragusano di 39, Giuseppe Gurrieri. Determinante ai fini dello sviluppo dell'inchiesta coordinata dalla procura di Ragusa, l'arresto ad agosto di un altro ragusano, Benedetto Salvino, di 57 anni, figura di spicco della rete Iblea che agiva di concerto con i vertici catanesi dell'organizzazione. Nelle ultime ore manette anche per gli altri presunti componenti della banda, il ragusano Angelo Bruno, 26 anni, e i catanesi Massimo Scuderi, di 44, e Rosa Foti, di 43. Questi ultimi due spacciavano all'interno di un camper. Numerosi luoghi della città, dal centro storico alle periferie, prescelti dalla banda per spacciare droga, circa 30 kg a settimana. Pedinamenti, appostamenti, intercettazioni, registrazioni audiovisive nelle autovetture degli indagati hanno consentito agli investigatori di tratteggiare un quadro probatorio sufficiente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi. Molto utile si è rivelata la strategia del PM titolare dell'inchiesta, Valentina Botti, di indebolire via via le fonti di approvvigionamento con arresti mirati tra i vari anelli della filiera dello spaccio. Oltre a rilevante quantità di droga, cocaina, hashish e marijuana, sequestrate attrezzature per il confezionamento e 100.000 euro. E adesso sentiamo i dettagli dell'operazione antidroga con l'intervista realizzata sempre da Carmela Minardo al sostituto procuratore della procura presso il Tribunale di Ragusa, Valentina Botti, al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, Claudio Solombrino e al comandante del nucleo tributario, Sergio Cerra. Sì, quello dell'episodio del 23 novembre rappresenta poi l'ultimo atto di questa indagine, che erano gli ultimi riscontri che ci servivano. In questa occasione poi peraltro il soggetto che aveva la disponibilità dell'abitazione, da cui sono stati spostati 35 kg di stupefacenti, era monitorato. Quindi noi sapevamo di questo scambio e quindi questa persona doveva essere arrestata quel giorno proprio perché sapevamo che avrebbe ricevuto questo grosso carico. E quando poi i militari sono ritrovati di fronte in realtà a due autovetture, non soltanto una, perché una di queste, quella presa a noleggio, sarebbe servita per fare la staffetta, e sono intervenuti poi subito per fermarli, ma poi appunto le cose sono andate, la persona ha opposto resistenza, ha fatto tutte quelle manovre nel centro ed è riuscito a fuggire. Noi poi certo l'abbiamo identificato comunque subito perché già durante la notte sono arrestate altre due persone. e sull'ultimo appunto Luca Calogero, è passati poi due giorni durante i quali lui è riuscito a fuggire, probabilmente aveva un'altra persona comunque di fiducia sul territorio che poi l'ha raccompagnato a Catania. Ma nonostante questo comunque è stato identificato subito e quindi poi con i tempi tecnici ovviamente per la richiesta della misura cautelare, quindi poi è stato eseguito ieri ed è stato trovato direttamente a Catania. E per noi questa era l'ultima fase dell'indagine proprio perché per cristallizzare e riscontrare tutte le ipotesi che erano state fatte in precedenza. Anche se da un punto di vista tecnico non c'è il vincolo associativo dimostrabile, ma sicuramente l'organizzazione aveva necessità di avere una ramificazione fitta sul territorio per poter ricevere questi quantitativi elevati, distribuirli e quindi una rete di network creata tra di loro che comunque erano collegati poi con i responsabili della distribuzione su Catania. Per quanto riguarda le macchine del noleggio credo che sia una scelta strategica da parte dell'organizzazione per in maniera tale da non lasciare tracce. Io ho detto poc'anzi, voglio dire, ho azzardato anche un tipo di indicazione, cioè i noleggi venivano fatti in maniera quasi irregolare ed illegale. Noi siamo riusciti a ricostruire comunque l'intero noleggio per quanto riguardava la Giulietta Bianca che è stata poi fermata sul Corso Italia. Tutti i giorni, addirittura due macchine al giorno venivano noleggiate o a Catania o in provincia di Catania per poi portare lo stupefacente e riconsegnarlo. Parliamo adesso della situazione politica interna al Movimento 5 Stelle perché di aver fatto saltare l'approvazione dei debiti fuori bilancio al Consiglio Comunale a Ragusa non sono state soltanto le opposizioni ma anche una consigliera del Movimento 5 Stelle, il partito appunto del sindaco Federico Piccitto. Il primo cittadino si è difeso dicendo che non c'è alcuna frattura nel partito e il leader del Movimento in Sicilia Giancarlo Cancelleri ha definito Piccitto il migliore sindaco 5 Stelle. Non c'è alcuna crisi all'interno del Movimento 5 Stelle a Ragusa a garantirlo il sindaco Federico Piccitto dopo che i consiglieri di opposizione hanno votato contro le variazioni di bilancio suddivise in quattro delibere per poco meno di 20 milioni di euro ma da avere scardinato i piani del sindaco è stata una consigliera del suo stesso partito oltre alle opposizioni Maria Rosa Marabita e il sindaco non se lo sa spiegare. Contattata telefonicamente la consigliera ha chiarito che il primo cittadino, la giunta e i dirigenti non sono stati per nulla corretti nei confronti del Consiglio Comunale perché vogliono decidere solo loro, ha accusato, senza considerare le altre parti in causa, in riferimento alle osservazioni e alle proposte di modifica delle opposizioni. Un voto a sfavore è giustificato non dal merito ma dal metodo, dunque. Forse la giustificazione sta nella sua vicinanza al mitabra accusativa 5 Stelle, fortemente critico nei confronti dell'amministrazione comunale, ha invece ipotizzato il primo cittadino, riunisce ex attivisti dissidenti e qualche ex assessore che nutre Astio nei miei confronti. I documenti hanno incassato 15 voti a favore e altrettanti contrari, un pareggio che non è bastato per l'approvazione dell'atto amministrativo. La questione delle variazioni di bilancio passa sui banchi dei capi gruppo per chiudere la vicenda entro l'anno. Era un atto che serviva a riequilibrare il bilancio a fronte di spese impreviste, ha spiegato il sindaco. Se i consiglieri di opposizione hanno delle soluzioni alternative, ha detto, le prepongano subito. In caso contrario, se cioè il no è stato motivato dalla voglia di dare una spallata all'amministrazione, è un atteggiamento dai responsabili. Perché per mettere in difficoltà a un sindaco non si può mettere a rischio la salute della città. Anche perché ha le dimissioni, il primo cittadino non ci pensa proprio. Se vogliono mandarmi via, presentino pure una mozione di sfiducia, ha riferito Federico Piccitto alla DNA Cronos. Sta dalla parte di Piccitto Giancarlo Cancelleri, parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle e leader del Movimento in Sicilia, definendolo uno dei migliori sindaci del Movimento. Lo stesso Grillo lo ha citato come esempio di buona amministrazione, insieme con la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino. Per Cancelleri non c'è nessuna frattura dentro il Movimento e le critiche all'amministrazione Piccitto da parte del meet-up recusativa 5 Stelle, cui sarebbe vicina proprio la consigliere Marabita, sono già stati diffidati dall'usare il simbolo del Movimento, ha chiarito Cancelleri. La posizione del Movimento 5 Stelle è espressa dal sindaco e dai consiglieri che si riconoscono nella sua linea. Nuova rete ospedaliera entro gennaio, a dirlo è stato il Presidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Di Giacomo, che con l'assessore regionale Baldo Gucciardi ha tracciato una sorta di scadenzario. Per concludere entro quel termine il percorso di approvazione della nuova rete ospedaliera, che porterà fra l'altro allo sblocco delle procedure concorsuali. Siamo entrambi convinti, ha aggiunto Di Giacomo, della necessità di arrivare in tempi brevi attraverso il confronto con i sindaci, le associazioni di categoria e i sindacati, al giro di boa di una vicenda che ha impegnato a lungo il Parlamento, il Governo e l'assessorato. E si è parlato delle pensioni dopo l'accordo nazionale firmato dai sindacati con il Governo. Questa mattina l'attivo umanitario organizzato dallo SPIC GL, FNP CISL e UILP WIL si è riunito a Catania. Per i dettagli sentiamo Catiuscia Carpentieri. Il punto sulle pensioni dopo l'accordo nazionale al centro di una conferenza stampa, questa mattina convocata dai sindacati SPIC GL, FNP CISL e UILP WIL. Al centro dell'Assemblea dunque sono state sfigate le novità per chi è in procinto di andare in pensione e il nodo delle ricongiunzioni, ma si è parlato anche delle pensioni troppo basse e delle quattordicesime. L'attivo unitario dei pensionati catanesi è stato convocato a seguito dell'accordo firmato dai sindacati con il Governo nazionale. All'incontro erano presenti tra gli altri tre segretari generali, Nicoletta Gatto e Enzo Meli, il segretario dello SPIC GL Sicilia Maurizio Calà e Marco Lombardo, segretario generale pensionati CISL. E' una riforma fatta in due fasi, una prima fase che trova rispondenza nel nostro campo, quella dei pensionati, chiaramente con la non taxaria e la questione dell'allargamento della platea della cosiddetta quattordicesima e chiaramente ci sarà poi una seconda fase che parlerà di riformare l'indice della svalutazione per dare gli incrementi sulle pensioni, sulla separazione della pensione dalla previdenza, dall'assistenza. Ma la riforma parla, dicevo, anche per i giovani e i pensionanti. Basta pensare che ci sono alcuni interventi che riguardano i lavori precoci, i lavori usuranti, i lavori di cura per cui c'è un intervento specifico, ci sono interventi per l'APE agevolata per coloro i quali vogliono nella loro autonomia poter andare in pensione anticipatamente rispetto ad alcune condizioni pensionistiche che ha. Ci sono forme di intervento anche su diverse casse pensionistiche che adesso si può unificare senza alcun onere aggiuntivo da parte dei pensionanti futuri. Torniamo adesso a parlare dei disturbi che si sono registrati in via dei navigatori a Marina di Modica. che ha contattato da noi telefonicamente il sindaco Ignazio Abate, ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda. Ce ne parla Marco Scavino. Entro la fine dell'anno verranno sostituite le lampadine dei lampioni di via dei navigatori a Marina di Modica. Comunicarlo è il sindaco della città, Ignazio Abate, che è contattato da noi telefonicamente, ha risposto ai cittadini che avevano sollevato il disagio patito in via dei navigatori, dove è assente l'illuminazione della strada e dove, nel contempo, si registra incuria in una piazzetta. Il sindaco ha specificato che in questi giorni verrà data priorità alla riparazione e al conseguente ripristino dell'illuminazione urbana di Frigintini, Sant'Elena e zone limitrofe, non trascurando, ha continuato il sindaco, via Silla e la zona delle scuole. In questi giorni di maltempo i pozzetti si sono riempiti d'acqua e adesso si deve prontamente intervenire, subito dopo, ma prima della fine dell'anno, l'illuminazione tornerà in via dei navigatori, ha dichiarato il sindaco di Modica, Ignazio Abate. Per ciò che concerne le radici che potrebbero compromettere le condotte idriche dell'abitazione adiacente, lo spazio verde comunale, il sindaco ha dichiarato che nei prossimi giorni farà un sopralluogo per constatare di persona lo stato della vegetazione. In quell'occasione, ha dichiarato Abate, valuteremo di concerto con i tecnici gli interventi più opportuni da porre in essere. La risposta del sindaco Abate fa seguito alla denuncia fatta per mezzo dei nostri microfoni da un gruppo di cittadini modicani, che si diceva stanco delle continue segnalazioni cadute nel dimenticatoio per diverso tempo a Palazzo San Domenico. Cerimonia di consegna stamani in Prefettura dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dalla Presidente della Repubblica. Il riconoscimento è andato a cinque ragusani che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. È stato grazie al loro impegno sociale e professionale che sono stati premiati con l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Franco Bussetti, Bartolomeo Mililli, Rosario Pignataro, Paolo Pulino e Salvatore Ventimiglia stamani hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso di una cerimonia nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Ragusa. Prima le note dell'Inno d'Italia e poi il Prefetto Maria Carmela Librizi ha consegnato i diplomi conferiti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai cinque cittadini blei premiati con il grado onorifico di Cavaliere. Sono benemerenze che vengono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica proprio per dare lustro ai meriti che molte persone hanno acquisito nel nostro territorio. Quindi hanno contribuito queste persone e sono cittadini ragusani al progresso culturale, economico, sociale del nostro territorio. Quindi vanno sicuramente premiati e a doto va dato il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza. I cinque blei che si sono particolarmente distinti nei rispettivi campi sono un carabiniere, un poliziotto, uno sotto ufficiale della Marina Militare, il Vice Presidente dell'Avis Provinciale di Ragusa e il Presidente della Confeserfidi. Una condotta di vita esemplare rendendosi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica. Senz'altro una gratificazione molto importante, ma non solo per me, ma anche per la mia famiglia, per i miei genitori, che così nel tempo apprezzano ancora di più tutte quelle che sono le attività e soprattutto il ringraziamento è doveroso all'istituzione. Io ho avuto sempre una propensione a lavorare per un bene pubblico, per una cosa pubblica, più che singolarmente. Quindi mi sono sempre orientato verso i sistemi. Ho cercato di dare un contributo verso un sistema solidale che fosse in favore di tutti, come era il mio impegno nell'Associazione dei Tronatori Volontari del Sangue, che è l'Avis. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Ancora ben trovati, adesso andiamo all'ospice di Modica, dove i volontari hanno organizzato uno spettacolo di cabaret per rendere il soggiorno all'interno del reparto delle cure palliative più normale possibile. La direzione dello spettacolo è stato di Piero Pisana con la collaborazione di Massimo Spata. Più di un'ora di cabaret e tante risate al reparto per le cure palliative dell'ospedale maggiore di Modica. Lo scopo dell'iniziativa, che si è tenuta pochi giorni fa, è stato quello di rendere l'adegenza dei pazienti dell'ospice più normale possibile. A sostenere il progetto i volontari della struttura sanitaria, che ogni giorno seguono questo gruppo di pazienti, che più degli altri hanno necessità di essere sostenuti in questo percorso. Abbiamo cercato di portare in scena partendo dalle nostre tradizioni, cioè dal rocundu che si raccontavano una volta ai tempi del Natale, alle ninnenanne, ai ricordi di come si costruiva il presepe, una volta il presepe poveriedro, non ricco, magari con pochissimi pastori, anzi addirittura con nulla. E allora si è voluto raccontare, anche perché gli ospiti che sono qui all'ospice spesso sono delle persone anziane che hanno vissuto questi momenti e il ricordo stesso di queste tradizioni, di questi momenti, li riporta al passato e gli dà un momento di gioia che è quello che in realtà noi abbiamo voluto regalare con questo spettacolo. Lo spettacolo è stato diretto dal comico Piero Pisana, che è anche volontario e ha visto la collaborazione del cabarettista, Massimo Spata. Significa regalare un momento di gioia, come staccare la spina da qualcosa in cui sei concentrato, ti deprime, ti abbatte e vivi dei momenti di leggerezza, li vivi attraverso i kunti, i canti, un po' di cabaret, un po' di risate, giusto per far capire che l'atmosfera natalizia è un'atmosfera che noi intendiamo portare anche nei reparti dove c'è gente malata, gente che sta male e regalargli quell'ora di normalità, di appartenenza, di socialità in cui vengono coinvolti, in cui si sentono pensati. E grazie alla mano sapiente di Piero Pisana, che è riuscito a organizzare uno spettacolo veramente molto carino. È davvero tutto per questa edizione. Noi vi lasciamo al meglio di Meraviglioso Consalvo La Rosa. Grazie ancora per averci seguiti e buona serata su Video Mediterraneo. Grazie a tutti.